Grazie Ragazzi cercherò di portare questo Il gioco Battle Royale E siamo per partire Siamo per partire 60 secondi e si parte 30 secondi Caricamento di sto gioco è un po' Leggermente lungo Che poi si avvicina tanto A GT Come si chiama Fornite Si avvicina tanto a Fornite 10 secondi alla fine E si inizia Insomma la tempesta che avanza Sicuramente lo conoscete Ci sono state anche Problemi tra I padroni di questo gioco E Fornite La prossima volta partirò direttamente dal gioco Eccolo qui E insomma è uguale a La mappa La mappa è abbastanza Ampie guardate Rimaniamo qui nel circhio Cerchiamo di Trovare Armi quanto prima possibile Le armi Non capito perché sto facendo così Siamo scesi Senza il guarda caduta Molto più veloci Ragazzi Cominciamoci a prendere questo Questo qui Entriamo qua Qua che c'è la pistola Ce la prendiamo La mitaglietta Ce la prendiamo Ok Questo qui non è che mi piace Così Però prendiamolo Questo Abbiamo il merino Il casco lo prendiamo Ma così Andiamo a prendere anche il casco Abbiamo state Qua ragazzi c'è la novità Non questa qui Però Ci sono le macchine Ecco Quelle macchine che vedete sulla mappa Possono essere Possono essere usate Come si cambia l'arma Salutiamo Facciamo così Eh non ho capito Non mi ricordo come viene Eccola qui Eccola qui Questa qui Abbiamo questa Non ricordo Ecco Ecco Ragazzi Facciamo così Facciamo così Se questo Lag finish Non sto Non porto fortnite Perché Purtroppo Purtroppo Ragazzi Ho Problemi Di 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 linea Ho problemi di linea Nel senso Non con gli altri giochi Sicuramente Porterò Call of Duty Warfare Che lo sto scaricando E lo porterò sicuramente sul canale Continuo a laggarmi Continuo a laggarmi Ma è problema di gioco Perché Con gli altri gioco Non me lo fa Continuo a laggarmi Ragazzi Ma me lo fa Prendere La macchina Eh vabbè Dobbiamo Fermarci Si è fermato Il lag Si Si è fermato Il lag Ragazzi Cerchiamo di Prenderci Questa macchina Ce la fa prendere Ce la segna Sulla mappa Ma non ce la fa prendere Come mai Andiamo Come armi Ci vuole Qualcos'altro La mappa Si sta Pian piano Restringendo Possiamo Sono nove Non è che poi Nove 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 E quindi stavo dicendo Sto caricando Come si chiama Colla food Se lo faccio vedere A volo A volo Guardate Eccolo qui Sono ragazzi 90 100 giga Ho scaricato Fino adesso 63 giga Per domani Sicuramente Per domani Sarà pronto Sicuramente Non so Stasera Ma per domani Sarà pronto Stasera Non lo so Oh la revolver La revolver La revolver La revolver La prendo Volentieri ragazzi Vediamo un po' Che fa la revolver Eh grande La revolver Eh sono uguali Non sono uguali Non lo so Intanto ragazzi Sta ancora Stringendo di più Il cerchio C'è una macchina Se non sbaglio La macchina Della polizia Eh sì Quindi ragazzi La prendiamo Ecco qua Perché ci dobbiamo Allontanare Quindi bisogna Polis Bellissima Sta macchina Bellissima Sta macchina Entriamo dentro Si parte Non so Se si accendono I lampeggianti No Andiamo di qua Accominciamoci Un po' Eh Una pietra Ci stava Lì davanti L'abbiamo presa Allora Guardiamoci un po' In queste case Se troviamo qua Anche se Anche se Come armi Stiamo messi Abbastanza bene Sento un'altra macchina Allora Entriamo in questa casa Dobbiamo stare attenti Perché Certe volte Possiamo trovare Sorprese C'è C'è anche il pumpa Abbiamo spazio Prendendo il pumpa Prendendo il pumpa Portiamoci il pumpa Perché Già abbiamo Una mitraglietta Quindi Portiamoci il pumpa Spazio Grazie a tutti. Centro dispare. Centro dispare. Centro dispare. Non c'è un granché, sempre No, in questo punto ci prendiamo la revolver Abbiamo gli airdrop, andiamo a vedere un po' gli airdrop Ecco qua ragazzi, attenzione, attenzione che ci sono degli spari In questo piccolo spazio siamo 5 giocatori rimasti No, 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 no Ciao Ciao E' buono queste bottigliele, non è buono? No, no, no E' buono E' buono